E se ti dicessi un trilocale a Roma Nord, 90 metri quadri, completamente ristrutturato, composto auto di pertinenza, a poco più di 200.000 euro. Ci crederesti? Ma una zona giorno così, l'avete mai vista? Questa meravigliosa cucina, enorme, abitabile, luminosissima, collegata direttamente al salone. Veramente un salone, addirittura doppia finestratura, contro soffittature, condizionatori di ultima generazione di design. E parlavamo di salone? Living, area living, quanto vi piace questo termine? E eccola, area dedicata al soggiorno, qui potete rilassarvi, di qua area pranzo. Ma attenzione, ce n'era un'altra anche in cucina. Dalla zona giorno passiamo alla zona notte. Giorgia, ma che stai facendo lì per terra? Sara, questo è gress porcellanato con riscaldamento radiante. La pavimentazione radiante vi riscalderà tutta casa, partendo dalla prima camera. Seconda camera, anche questa ampia, praticamente due matrimoniali, ma soprattutto questa doccia monumentale con percorso del benessere. Sara, io già sto meglio. E non dimentichiamoci del balcone e nemmeno delle finestre in tutta casa, finestre in PVC e legno. Ricapitolando, vi abbiamo mostrato un appartamento trilocale a selva nera di 90 metri quadri, completamente ristrutturato, con il posto auto a 219.000 euro. Se siete interessati, scriveteci in privato.